Saluto tutti gli amici di Casa Fonè, sono Giulio Cesare Ricci, mastro vinile come mi chiama Renzo Arbore e vi vorrei parlare proprio del vinile, in un momento dove tutti parlano di vinile, tutti sanno stampare il vinile, tutti sono professori di vinile. Ecco io vorrei solo ricordarvi che 40 anni, solamente da 40 anni, che dedico la mia vita a questo mondo straordinario che è il mondo analogico, quindi registrazioni a nastro, a bobine e supporto vinile, ma vinile analogico al 100%. In tutti questi anni ho realizzato, dal primo album all'ultimo, non mi sono mai fermato, ho realizzato vinili che sono stati apprezzati in tutto il mondo. Non ho mai smesso di farlo, anche negli anni dove il digitale aveva il 100% del potere assoluto, ma quando la qualità è così alta non è possibile smettere di realizzare un supporto, interrompere la produzione di un supporto magico come l'analogico, come il vinile. Questo io l'ho fatto, l'ho continuato a fare e in tutto il mondo i miei rischi, i miei LP, sono dei riferimenti molto importanti per chi ama la qualità analogica. Ecco, in un periodo molto complicato come quello che stiamo passando, che abbiamo passato e che sfortunatamente continuiamo a passare per colpa del Covid, ho voluto dare un contributo al rinascimento del vinile con una linea di prodotti che ho chiamato Super Audio Fire Vinyl, Made in USA. Dopo anni e anni di stampaggio Made in Germany, ho deciso di realizzare questa linea in collaborazione con dei professionisti americani che in questi anni hanno dedicato la loro vita proprio per uno stampaggio super audiophile ed ecco perché ho presentato questa linea di vinili. Il prodotto è un prodotto molto speciale anche nella cover. Stiamo parlando di copertine che si chiamano All Style, che in Europa non realizzano più da decenni, sono delle cover come stampavano i nostri padri negli anni Sessanta, non stampando direttamente sul cartone ma su carta speciale a otto colori che poi veniva rilegata col cartone. Queste copertine molto speciali contengono dei vinili altrettanto speciali, la registrazione è analogica al 100% realizzata da me, anche da me ha curato il lettaglio di lacca, mentre la galvanica, le galvaniche, processi molto molto delicati e lo stampaggio sono curati da questi professionisti americani. Il tutto per realizzare un progetto con artisti che fanno parte, artisti di punta del catalogo Fonet. Avete visto la Gilbae con le variazioni Goldberg, avete visto che naturalmente è un doppio vinile, un doppio vinile con Scott Hamilton in quartetto e questo trio Under Live con Bianchini alla voce, Biondini alla fisarmonica e Pietro Paoli al contrabbasso. Questi sono i primi tre album che vi ho presentato, ecco in una prossima occasione a brevissimo farò anche delle presentazioni d'ascolto. Il limite di internet non vi farà apprezzare la qualità del suono, propriamente insita nel prodotto, ma mi auguro che la qualità del suono la potrete verificare direttamente ascoltando questi meravigliosi dischi nel vostro impianto di casa.